Vivere di vanità, vivere per apparire, per farsi vedere, è una tentazione anche per i cristiani. È quanto sottolineato da Papa Francesco nell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta, commentando un passo del libro di Coelet. Pertanto l'invito è di aiutare nel nascondimento, di non mostrare tristezza nemmeno quando si digiuna, perché l'importante è che il Signore veda. La vanità semina inquietudine, aggiunge il Papa, è una malattia spirituale molto grave, che è lontana dall'unica verità, dall'unica roccia rappresentata da Gesù. Quanti cristiani vivono per apparire? Sembrano, la vita loro sembra una bola di sapone. È bella la bola di sapone, tutti colori ha. Ma dura un secondo. E poi che? Anche quando guardiamo alcuni monumenti funebri, pensiamo che che è vanità perché la verità è tornare alla terra nuda come diceva il servo di Dio Paolo VI ci aspetta la terra nuda, questa è la nostra verità finale. Nel frattempo mi vanto o faccio qualcosa? Faccio del bene cerco Dio prego le cose consistenti e la vanità e la vanità è bugiarda è fantasiosa inganna a se stesso inganna al vanitoso perché prima fa finta di essere ma alla fine crede di essere quello crede ci crede poveretto che è